Il periodo degli eventi continua e quindi c'è da parlare di quello che c'è stato e di quello che ci sarà, il nuovo Prince of Persia The Lost Crown sembra essere stato molto apprezzato da certi e molto meno apprezzato da alcuni e adesso vedremo perché e poi ci sono un sacco di info e anche di leak e rumor su un sacco di diversi Final Fantasy, non solo i 16. Questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Allora, gente, durante l'ultimo Summer Game Fest è stato presentato Final Fantasy VII Rebirth in maniera più completa e ovviamente tra le varie cose si è parlato di questo, ci sono nuove informazioni su questo gioco qua perché ci sono dei leak a riguardo ma ci sono anche delle informazioni su altri Final Fantasy, alcuni in uscita tra pochissimo come il XVI. E altri che dovrebbero arrivare parecchio più in là, effettivamente. Quindi vediamo di che si tratta. Final Fantasy VII Rebirth, lancio a gennaio 2024 e Zack giocabile, leaker a ruota libera. Chiacchierando su Resettera, all'indomani della presentazione di Final Fantasy VII Rebirth, il leaker noto come I Am A Hero 2, lo stesso che ha condiviso il nome di Persona 3 Reload ancora prima del leak dell'annuncio, che in effetti sembra essere confermato, ha ristretto la finestra di lancio di Final Fantasy VII Rebirth collegandola a un sicuramente più preciso gennaio 2024, in luogo del generico 2024 con il quale Square Enix si è congedata al termine dello show di Keeley. Non Pago ha aizzato ulteriormente l'hype affermando che Zack Fair sarà giocabile nel corso di una cospicua porzione dell'avventura e che finora è stata mostrata solamente una minuscola parte dei contenuti destinati a trovare posto nei due dischi del gioco. I Am A Hero 2 ha descritto la scala di Final Fantasy VII Rebirth come imponente, aggiungendo che almeno il 50% della storia divergerà dal classico. I fan possono dire addio alla storia originale, ha aggiunto a tal proposito. Vi se considerate le rivelazioni di Final Fantasy VII Remake, le sue parole non appaiono per nulla, campate in aria. Il leak era successivamente cancellato, molti dei suoi post su Resettera permette per non mettere a repentaglio la segretezza della sua identità. E Am A Hero, ricordiamo, è la stessa persona che oggi ha spifferato un'altra cosa di cui parleremo, ok? E parliamo per l'appunto di questo. Anzi, anticipiamolo adesso. Final Fantasy X Remake sarebbe in sviluppo possibile uscita nel 2026 dopo il remake di Final Fantasy IX. E quindi c'è praticamente tutta la roadmap dei vari remake di Final Fantasy. Perché Square Enix vorrebbe pubblicare in occasione del 25esimo anniversario. Square Enix sembra puntare tutto su Final Fantasy. La serie è tornata in auge negli ultimi anni, cazzo l'incadibile successo commerciale di 14 e 15, beh anche 7 remake. Riceverà presto un nuovo capitolo principale, la seconda parte in un remake molto atteso. Inoltre, stando dei rumor estremamente attendibili, l'azienda giapponese starebbe lavorando sul rifacimento di Final Fantasy IX e Scoop dell'Ultime Ore, anche sul remake di Final Fantasy X, entrambi in uscita tra il 2025 e il 2026. Probabilmente qualcosa sarà rimandato e dilazionato, però per ora sembra essere così. E anche questa informazione arriva dall'insider verificato, I'm a Hero 2. Che tra l'altro ha recentemente anticipato il nome esatto del remake di P3 e ha dichiarato che Final Fantasy X sarà il prossimo remake di Square Enix dopo quelli di Final Fantasy VII e Final Fantasy IX e che al momento l'uscita sarebbe in programma per il generico 2026 in occasione del 25esimo anniversario. Quindi, insomma, Final Fantasy X è un gioco longevo e ricco di contenuti, quindi sembra difficile che Square Enix riesca a sviluppare il remake in così poco tempo, per l'appunto. Specie considerando che due delle quattro unità dell'azienda, la Creative Business 1, 1 e 3, sono già al lavoro su Final Fantasy XIV, il XVI, il VII Rebirth, il VII Remake, parte 3 e potenzialmente sul remake di Final Fantasy IX. Ogni modo, la fonte si è rivelata più volte corretta e Square Enix ha recentemente dichiarato di voler creare ancora più remake e giochi AAA, quindi non si tratta di un'ipotesi poi così improbabile, in linea con quello che aveva detto di voler fare Square Enix. Mi viene da dire purtroppo, però, considerato che cosa ha fatto a parte Final Fantasy, non lo so, sto gradualmente traslando verso il per fortuna. E poi, anche riguardo a Final Fantasy XVI c'è qualche informazione, perché Square Enix ha rivelato la programmazione dell'evento pre-lancio. Che questo è proprio in stile Yoshida. Perché? Direttamente al profilo Twitter, ufficiale Final Fantasy XVI, Square Enix mostra quella che sarà la programmazione della presentazione che si terrà tra l'11 e il 12 giugno 2023. La presenza è stata ufficializzata nel mese di aprile, ma solo a distanza di due giorni dal tutto, la compagnia ha comunicato quel che accadrà nel corso della notte. L'evento inizierà a luna e terminerà alle 5.45. Una lunga notte, i fan della serie, gli utenti interessati al 21 capitolo, avranno modo di vedere molti aspetti della produzione. All'una, le keynote di Naoki Yoshida. Alle 2.15, Icon Power Showcase con Maxi Milan Dude, Hiroshi Takai e Ryota Suzuki. 3.30, ampio focus sulla narrazione di Final Fantasy XVI con Alana Pierce, Kazutoyo Mahiro e Michael Christopher Koji Fox. Alle 4.45, ampio spazio per la musica di Final Fantasy XVI con Alex Mukala e Masayoshi Soken. Un sacco di influencer e di gente che conosco da parecchio tempo. Alle 5.54, messaggio di chiusare l'evento da parte di tutto quanto il team. Le probabilità di ricevere informazioni sulla demo giocabile di Final Fantasy XVI si fanno sempre più elevate, ma per adesso non c'è niente confermato e dovremo aspettare l'evento. Che, ve lo dico ragazzi, 4 ore e passa di Final Fantasy XVI, penso che non le vedrò. Questo è, parliamo prima di questo, questo è un evento in stile Yoshida. Assomiglia decisamente come struttura alle letter from producer del team di Final Fantasy XIV. Ok? Lo dico perché ho visto il recap di molte di queste e queste qui arrivano più volte l'anno e durano qualcosa tipo 6 ore. Ok? Però per Final Fantasy XIV quella è un MMO e parlano in maniera mega approfondita di un sacco di cose. Ed è una delle cose che i fan gradiscono di più perché ha un supporto continuo di comunicazione tra il team e i giocatori. Ok? Per il XVI a me sembra perfino un po' esagerato tutto questo e già mi sembrava esagerato prima, figuriamoci adesso, però questo è l'evento che vogliono tenere. Ok? E lì penso che sarà proprio quello l'evento di chiusura. Da quel momento in poi uscirà magari un ulteriore trailer, quello proprio di lancio, alla data di lancio di Final Fantasy XVI, ma penso poi anche basta. Giusto? Veniamo al resto ragazzi, perché ovviamente c'è Final Fantasy VII e Rebirth, che ormai Final Fantasy VII sta diventando una sorta di sotto franchise di Final Fantasy proprio. Cioè, il VII è praticamente un'ambientazione a sé stante che stanno utilizzando per più giochi, una sorta di trilogia interna, veramente una roba sconfinata. Io non mi posso esprimere perché ho smesso di giocarci, non mi piaceva tanto il sistema di combattimento quando ho preso il VII Remake. E oltretutto, purtroppo sì, lo so, non ho giocato all'originale, io giocai all'8 all'epoca. Tra l'altro va a fanculo, l'unico che non ha avuto un remake più completo, no? Soltanto una remaster, maledizione. Però, vabbè, quindi dovremmo avere tanta roba. E invece, gente, per quanto riguarda Final Fantasy X, qui, ragazzi, Square Enix sta seguendo un po' la linea Capcom, mi pare di capire. Cioè, sta procedendo con i successivi Final Fantasy durante la pubblicazione, eccetera, eccetera. Quindi c'è stato il XV, adesso c'è il XVI, probabilmente andranno avanti. Si vocifera che toglieranno la numerazione, ma insomma andranno avanti in una maniera o nell'altra. E poi stanno nel mentre, anche proseguendo con il remake dei precedenti Final Fantasy, beh, praticamente dal VII in poi. Però c'è stata anche la remaster dei vecchissimi Final Fantasy, si parla 1, 2, 3, 4, 5 e cose del genere. Quindi, ragazzi, mi sa che ci aspettano degli anni da qui fino al 2030 o qualcosa del genere, in cui continueremo a vedere un susseguirsi di Final Fantasy in continuazione, tra nuove uscite e remake, un po' come sta facendo Capcom per Resident Evil, praticamente. Molti criticano questa cosa dicendo che non se ne può più di remake e cose del genere, però, ragazzi, il portafoglio parla più forte di qualunque altra cosa. Se i giocatori comprano a milionate di copie dei nuovi remake, vuol dire che il mercato poi risponde e le aziende le fanno. E se le persone smettono di comprarle, le aziende non le fanno più. E quindi siete voi, noi, tutti, in controllo di questa cosa. Ma io, per esempio, sono felice che arrivino, se sono affiancati a nuove IP, a seguiti a nuove cose, ovviamente. E durante l'ultimo Summer Game Fest, proprio il primo gioco che è stato presentato è una sorta di spin-off della serie di Prince of Persia, ovvero questa sorta di action platformer avventura 2D, 2.5D, mi verrebbe da dire, che nel momento in cui è stato presentato, io devo dire, io, vabbè, adoro questo genere, quindi, per carità, sono un po' di parte. Ma lì per lì sembrava un gioco veramente bello, con una musica da merda che non c'entrava assolutamente niente, ok? Però sembrava veramente bello. E sono arrivate, a quanto pare, anche nuove informazioni. E tra queste nuove informazioni c'è anche il fatto che molti non hanno gradito, invece, questo nuovo titolo. Prince of Persia The Lost Crown si presenta a Metroidvania, trama e il compositore di Ori. Quindi qualche informazione in più. In gan segreto, negli studi del team di Beyond Good and Evil 2 ha preso forma il reboot della serie Prince of Persia, intitolato Prince of Persia The Lost Crown. Sì, vabbè, ma non penso che sia proprio da intendere come questo tipo di reboot. Mi sa tanto di uno spin-off più che altro. Vabbè, comunque. Ambientato in versione fantastica dell'antica Persia, il titolo proporrà una storia completamente inedita con un nuovo protagonista. Al centro troveremo Sargon, un giovane e abile guerriero, membro di un gruppo d'elito noto come gli Immortali. Questi ultimi avevano il compito di salvare il principe Ghassan, vittima di rapimento. La destinazione del viaggio di Sargon e i compagni sarà il Monte Coaf. Acompagnare le esplorazioni, i giocatori troveranno una colonna sonora creata da Matrix, compositori di origine iraniana, noto per il suo stile che mescola strumenti tradizionali e suoni moderni. Al suo fianco, Garrett Coker, pluripremiato autore della colonna sonora di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps. Musicista, lo ricordiamo, ha collaborato anche alla realizzazione delle musiche di Mario Plus Rabbits, Sparks of Hope. Quindi, insomma, lato musicale ci siamo, ok? Mi viene da dire di sì. Sul fronte del gameplay apprendiamo che Prince of Persia e Lost Crown avranno strutture ispirate al genere dei Metroidvania, con ambientazioni legate alla mitologia persiana e spazieranno dalla maestosa cittadella della conoscenza alla vario-pinta foresta ircana. Completare il quadro, Sargon potrà contare su poteri temporali e abilità uniche da impiegare in combo di combattimento. Fasi platform, boss fight, la vettura di Ubisoft proporà anche enigmi, segreti e missioni secondarie, ok? E sì, Ubisoft garantisce che andrà a 60 fps su tutte le piattaforme. Mi viene da dire, ci mancava pure che un gioco del genere, che sembra essere così veloce e action, non andasse a 60 fps per un gioco 2.5D. Nel senso, ci mancava veramente pure. Ubisoft promette che il nuovo Prince of Persia andrà a 60 fps su tutte le piattaforme, in modo così a garantire ovunque la massima fluidità di gameplay. PC, PS5, Series XS, ma anche PS4, One e Nintendo Switch, quindi dappertutto. Però, ragazzi, i trailer di questo ultimo Prince of Persia stanno avendo un sacco di non mi piace. Vuoi direte, come mai? Beh, sebbene una parte del pubblico si sia mostrata felice al momento del reveal, la parte dei videogiocatori invece è spesso un certo disappunto verso il passaggio dalle tre dimensioni al 2.5D. Non mi pare che sia una spiegazione sufficiente. Sembra, infatti, essere questa la principale causa per cui i trailer pubblicati su canali YouTube ufficiali PlayStation e Nintendo abbiano ricevuto un quantitativo particolarmente elevato di non mi piace. Secondo me non è questa. Adesso ne parliamo. A prescindere da quelli che possano essere i gusti personali ai videogiocatori, ha visitato un evento che fa discutere e persino John Lindeman di Digital Fundry è intervenuto sulla questione chiedendosi il perché di tanto astio verso un prodotto che potrebbe essere interessante, anche e soprattutto per via delle scelte di gameplay attuate dal team di sviluppo. E qui c'è il tweet originale. Io l'ho aperto il tweet originale e devo dirvi questo. Se andate a vedere i tweet sotto, c'è la spiegazione, in realtà, del perché è avvenuto tutto questo. Ok? E adesso ve la spiego io. Allora, partiamo dal gioco in sé. Prima di tutto, perché è quello di cui veramente bisognerebbe parlare. In questo caso la polemica è un po' scema, fatemelo dire. Però, il gioco sembra essere un metroidvania, sembra essere davvero interessante e ben curato, e sono molto contento se Ubisoft fa questo tipo di prodotti qui, che sembrano avere un alto livello di cura, una sorta di creatività nel voler prendere un franchise e fargli uno spin-off interessante, e questo tipo di spin-off, ragazzi, io li gradisco particolarmente perché possono essere molto, molto ispirati. Uno di questi è Darksiders Genesis, che io ho particolarmente apprezzato, per dire, no? Che prende il franchise di Darksiders e lo pone in un altro, diciamo, in un altro contesto, con un diverso gameplay e con tante altre cose. Il gioco sembra essere veramente bello, e francamente, mi viene da dire, ragazzi, eravamo in live, no? Eravamo un centinaio di persone, oltretutto. Beh, insomma, a proposito, grazie. Eravamo tutti piuttosto contenti di questo gioco, anche chi non era estasiato per gusti personali, ha comunque detto, beh, dai, mi sembra un bel gioco. Una cosa che abbiamo detto tutti, è che il trailer aveva una musica de' merda rap, che non c'entrava assolutamente niente con Prince of Persia, e non dico che abbia proprio rovinato il trailer, ma quasi, ok? E sì, il protagonista, ammetto che vedere Prince of Persia con un ragazzo con i dread, fa un po' strano, d'accordo, però è uno spin-off, un altro protagonista, un'altra cosa che non c'entra assolutamente niente. E io, ragazzi, siccome conosco i miei polli, e io per primo sono uno di quelli che si scaglia proprio con tanto di elmetto in testa contro quello che in Italia viene chiamato politicamente corretto, ma in tutto il resto del mondo si chiama cultura woke, di queste merdate assolute, io vi dico, ragazzi, in questo caso è una cagata fare questo tipo di considerazioni, perché non credo che sia niente di tutto questo. Io penso che sia solo un pessimo gusto di scegliere una musica gigi giovane per i trailer. È una cosa che va avanti da un sacco di tempo. Il gioco non avrà questa musica qui. L'abbiamo visto nell'articolo, è comunicazione della stessa Ubisoft. Non ci sarà quel tipo di musica. Voi direte, ma allora perché cazzo l'hanno messa nel trailer? Bella domanda! Bisognerebbe chiederlo a quelli del marketing che sono soliti fare questo tipo di cagate. Per il resto, ragazzi, protagonista e cose del genere, cosa diavolo ve ne importa? È uno spin-off, è un altro protagonista, è un'altra storia. Magari facessero degli spin-off dedicati quando hanno intenzione di fare il blackwashing a un protagonista o altre cose. Il problema di solito è il contrario, no? Quindi ben venga questo nuovo Prince of Persia che è di fatto uno spin-off. È chiaramente uno spin-off perché l'ormai mitologico remake di The Sands of Time dovrebbe arrivare e avrà lo stesso protagonista e non cambierà niente, ok? Io sono molto contento e non vedo l'ora di giocarlo e magari si conferma il fatto che Ubisoft dà il suo meglio con i prodotti secondari tipo Immortals Fenyx Rising e magari anche questo qui. E quanto ci scommettete che andrà veramente così? Io vi dico che non vedo l'ora di giocarlo. Ti piacciono le news? Allora non rimanere ignavo come i malnati. Segui Chris anche su Twitch. Sul sito Viola troverai tante live su cose corroboranti. La serata Community della Domenica La serata Horror e altro il martedì Analisi Reaction e altro il giovedì E tante altre stasianti live Di solito alle 21. Fai il follow su Twitch Così Chris è felice Tu supporti il canale E le cose Ora torniamo alle news E ora ragazzi Passiamo al commento del giorno Che oggi è particolarmente succoso Wasting Dog mi scrive Sai qual è il problema? Che siamo oramai grandi e boomer Personalmente parlando davvero Non mi sta interessando Quasi più nulla delle nuove IP Se non per qualche gioco particolare Tipo Phantom Blade Ma per il resto Sembra tutto creato per un'altra generazione Tipo il nuovo pop Prince of Persia Ne abbiamo giusto parlato Pochi secondi fa Quanto speravo in un tuffo nell'atmosfera Di Prince of Persia Invece mi sono dovuto sorbire Una soundtrack brota Ma spero di sbagliarmi Quando uscirà Per l'appunto Al momento sto giocando Solo a giochi e brand Che conosco bene Che mi appassionano da una vita Tipo Monster Hunter Che a me sarà Monster Hunter credo Sarò ormai un boomer di videogiochi Alla ricerca solo di esperienze e culture Simile a quelle della mia infanzia Sono quasi sicuro che questo show Sia piaciuto molto Alle nuove reclute del gaming O comunque a persone molto giovani Che sia questa l'anzianità Per un videogiocatore O 30 e qualcosa anni Non puoi così tanti Blah 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 eccetera Allora Ascolta Wasting Dog Secondo me Ti stai autolimitando In una maniera Che è francamente Disfunzionale Rispetto a quello Che vuoi raggiungere Quando uno videogioca Vuole essere intrattenuto Qualcuno si vuole divertire In un certo modo Qualcuno si vuole divertire In un altro Il mondo del gaming È andato avanti Cercando di soddisfare Molteplici persone Perché ormai Il mondo del videogioco Non è più come Quando eravamo ragazzini Noi che i videogiocatori Hanno considerati Come O i bambini Che giocano Ed è solo Un nuovo tipo Di giocattolo Tanto che Le playstation All'inizio Venivano vendute Nei negozi Di giocattoli Qualcuno se lo ricorda Ecco Bene A proposito A proposito di boomer Ne dei Trentenni sudati E puzzolenti Che vivono A casa della mamma Che vanno in uno scantinato Con il loro pc E stanno 26 ore al giorno A giocare A qualche oscuro gioco Possibilmente Con un linguaggio Poco Poco ortodosso E anche Molto tossici Ok Con Il prossimo Ok Questa era l'opinione Del videogiocatore Medio una volta Adesso la cosa è cambiata E io dico Grazie a Dio Perché si è usciti Da una nicchia E le possibilità Sono molto più grandi Ovviamente Quando si esce Da una nicchia Succedono un sacco Di cose Come per esempio Il videogioco di massa Il videogioco di massa Come qualunque altra cosa Di massa Contiene delle cose Che l'industria Ritiene Siano le migliori E siano le più adatte Per vendere E molto spesso Quelle non soddisfano Un granché Una parte consistente Dei giocatori Alcuni sì Alcuni no Ed è il motivo Per cui Per esempio Nel mondo del videogioco Ormai I AAA Hanno il loro ruolo E hanno la loro ragione D'essere ragazzi E ci sono un sacco Di progetti Che possono essere affrontati Per lo meno per adesso Soltanto da studi AAA Ed è giusto che sia così E non sto parlando Soltanto di Warzone Di Fortnite Di Genshin Impact No Sto parlando anche Di The Last of Us Di Spider-Man Di avventure single player Più classiche Quello però è un conto No Quello che è cambiato tanto Negli ultimi anni Non è tanto questo Cioè quello sì In parte Ma è il mondo indie Nella nostra epoca Questa roba Non c'era C'era magari In ambito PC Che qualcuno creava Queste cose Le mod di giochi Le mappe custom Per certi giochi Qua i forum In cui si aggiungeva A giochi preesistenti Un sacco di robetta Diciamo l'alba Del modding Come lo conosciamo adesso Ma non era supportato Da niente Non c'era neanche Steam Non c'era il workshop Di Steam O la possibilità di La possibilità di questi forum Di mod che avevano Degli installabili Delle cose Col cazzo Era un casino Mettere queste mod E per la cronaca Era un casino Anche fare un sacco Di altre cose Quindi Secondo me Ti stai Autolimitando Volendo Per forza Rimanere attaccato A cose Che tu ritieni Essere valide Ma ti stai Praticamente Bendando Rispetto a un sacco Di altra roba Vuoi un consiglio? Guarda le mie O anche quelle di altri Top Annuali Di videogiochi O mensili Perché io le pubblico Anche mensili Io Nella mia classifica Non faccio distinzione Tra AAA E indie Questo È il modo Per trovare Sempre qualcosa Da giocare Se tu Ti limiti Al guardare La situazione Del mercato Videoludico Mainstream Cioè Quello che va Come pubblicità Altrove E quelli che Al momento Puoi vedere Nelle grandi città Sui lati Degli autobus Quei giochi là Probabilmente Non troverai Qualcosa per te Tranne in qualche caso Perché magari Appartiene a una generazione Videoludica Differente Ma c'è Un puttanaio Di roba Non molto tempo fa È uscito Boltgun Time Warhammer 40.000 Cosa tipica Da boomer Mi viene da dire Che però Ha avuto Un'esplosione Proprio al giorno D'oggi Warhammer è più Seguito di sempre In questo momento E quello è un Boomer shooter È stato chiamato Proprio così Il genere D'accordo? C'è quello C'è tanta altra roba Ce n'è una marea Basta Basta saper guardare E non mi sto Riferendo a te In particolare Ma mi sto accorgendo Che molte persone In realtà Non sono troppo Anziane Sono troppo infantili Perché è tipico Dei ragazzini Ragionare Solo come Un Oh mio dio Non c'è quello Che voglio io Dove dico io No? Mi ricordano I ragazzini Che ai tempi Dell'uscita di Dontless In cui il mio canale Quando ancora Il mio canale Era piccolissimo Ancora più piccolo Di come è adesso Si sono precipitati In massa Sul mio canale E facendo Ho fatto dei numeri Che non ho mai fatto Precedentemente E tutti questi ragazzini Che volevano Che portassi Dontless No? E tutte le volte Che portavo Qualcos'altro Mi dicevano Ma quando porti Dontless E non gli andava Mai bene Questa è la stessa cosa Solo all'opposto Oh ma perché Non porti altre cose No? Oppure perché Non c'è Quello che dico io Dove voglio io Mi dispiace Mi dispiace Non funziona così Le cose ci sono per tutti Ma bisogna imparare A cercare A saper guardare Da altre parti Ignorate le pubblicità Mainstream Di giochi Che sono Quelli sì Magari rivolti A un altro pubblico E imparate a cercare Un po' altrove E troverete una marea Di robe che vale la pena Giocare In continuazione Potreste passare I prossimi dieci anni Della vostra vita A videogiocare A cose stupende Senza toccare Neanche una volta Un tripla Provateci E vedrete che figata E ora passiamo Alle news a ruota Tribeca Games Spotlight Il riassunto Con tutti i giochi Da The Expanse A Stray Gods L'abbiamo visto insieme In live su Twitch Ok E di nuovo Andatemi a seguire In descrizione Perché ci sono eventi Praticamente ogni giorno Anche oggi E nei prossimi giorni Specie domani Con il Con il Con l'evento Xbox Appena concluso Il Tribeca Games Spotlight Lo showcase si è aperto Accendendo i riflettori Su Highland Song Un'avventura 2.5D Abbientata nelle Highlands Scozzesi Sviluppata da Inkle Studio già autore Di Evans World Eighty Days E Overboard Ha la sua peculiare Stile grafico Animazioni realizzate a mano Uno storytelling dinamico Poi Spazio parola Di una vecchia conoscenza Goodbye Vulcano High L'avventura disegnata A mano di Co-op Parla di amore E cambiamento Alla fine di un'era Narrando la storia di Fang Una ragazza sopraffatta Al turbinio di emozioni L'ultimo anno di liceo Ibrido Tra il racconto cinematografico Rhythm Game Un'avventura di formazione Personaggi portati a schermo Sotto forma di creature Antropomorfe Poi Rondisca e Focus Hanno parlato il loro Chance of Sennar Questo sembra essere Molto carino ragazzi Platform adventure Con rompicapi Ispirato dal mito di Babele Singolare esperienza In arrivo il 5 settembre 2023 Sarete chiamati A osservare Ascoltare E decifrare Dei linguaggi antichi Per appianare Le divergenze E le incompressioni Tra i popoli della torre Davvero Questo sembra essere Davvero caruccio Poi Mezan Studios Con il suo Nightscape Avventura 2.5D Con la passione delle stelle E le antiche storie arabe Nei panni all'astronoma Laila Sarete chiamati A utilizzare Un astrolabio magico Esplorare i misteri Della terra e del cielo E riportare le stelle Al loro posto Molto peculiare Anche Stray Gods The role playing musical Un gioco che afferma La sua identità di gioco Di ruolo musicale Fin dal titolo Mondo fantasy Moderno Illustrato a mano Dovete vestire I panni di Grace Una ragazza Che ha abbandonato il college Ha ricevuto il potere Di una musa Che doveva sfruttare Per scoprire ciò Che è successo A colei che l'ha preceduta Una sorta di investigativo Mischiato a un musical Mischiato a una cosa Narrativa Mischiato a un'avventura grafica Veramente interessante Anche questo E poi The Expanse Telltale Series Nuova avventura narrativa Che si pone come un prequel Della popolare serie televisiva Sci-fi di Amazon TV Della serie di romanzi A quale è ispirata I panni di Camino Drummer Interpretata da Cara Guy La stessa attrice Apparsa sul piccolo schermo Vi metterete sulle tacce Un tesoro nascosto ai confini La cintura di asteroidi A bordo di Artemis Tipico gioco Telltale Barra Deck Nine Perché sono loro Che lo stanno realizzando Il gioco Sembra promettere molto bene Molto narrativo Scelte multiple Decisioni difficili Eccetera eccetera E poi The Espelot Questo Veramente Stranissimo Immerge nelle strade Dei parchi Della città di Quita Attraverso gli occhi e le orecchi Di Julian Bambino di 8 anni Avventura semi Autobiografica Che permette di esplorare liberamente La città di Guadoregna Calciando il pallone Adesse e manca Interagendo con le persone Che l'abitano Molto sketch Molto fatto con Praticamente Un gioco Che sembra tutti Schizzi animati Questo è molto peculiare Diciamo Un po' Un po' Tanto di nicchia Della nicchia Però il resto È stato Insomma Alcuni titoli Erano veramente carini Ok Vi invito a recuperarli Specie quelli che abbiamo citato prima Perché sembra essere Davvero interessanti Poi Xbox Showcase Starfield Direct Che lo attendiamo molto domani Svelata la durata esatta Ora abbiamo proprio la durata specifica Ok Microsoft ha ufficialmente Aperto la coda per l'Xbox Showcase Starfield Direct Su Youtube Con tanto di indirizzo Con la pagina dello streaming Localizzata in italiano E attivare il pro memoria Per l'inizio dell'evento La durata complessiva Dello streaming È 1 ora 52 minuti E 19 secondi Quindi a sto giro Non è che quanto dura lo show 1 ora 52 minuti E 19 secondi A sto giro Abbiamo la risposta esatta Il resto ragazzi Ne abbiamo parlato Sappiamo le aspettative Sappiamo i rumor Che ci sono stati Non resta che vederlo E francamente Non vedo l'ora Purtroppo C'è una brutta notizia Ovvero Stalker 2 Niente da fare Non ci sarà All'Xbox Showcase I ragazzi di GSC Game World Dalle prese con il conflitto Ancora in corso Tra Russia e Ucraina Purtroppo sì Sono ucraini E bielorussi Gli sviluppatori Uno di loro è morto Combattendo Tra l'altro Oltre agli attacchi Degli hacker russi Contro Stalker 2 Ne ho passato Un po' di tutti i colori Sti ragazzi qua Rispondendo al messaggio Di un utente Che chiedeva novità Sul gioco E la sua eventuale presenza All'Xbox Showcase GSC Game World Ha rivelato in maniera ufficiale Che Stalker 2 Non sarà la conferenza Xbox Solitamente non annunciamo mai O decliniamo La nostra partecipazione Agli eventi Tuttavia per questa volta Faremo un'eccezione Stalker 2 salterà Le conferenze di giugno E preferiamo fare annunci Importanti nei prossimi mesi Il nostro piano È fornire update progressivi Su ciò che stiamo preparando Per ora Comunque il gioco Resta confermato Per quest'anno Tolte delle brutte notizie Che spero non ci saranno E auguro il meglio davvero A sti ragazzi Perché Avete seguito un po' Che cosa hanno passato Si meritano questo e altro Io sto gioco Mi sa che lo prenderò Al day one Proprio cash Anche se è nel game pass Perché Per quanto mi riguarda Scelta mia Penso che se lo meritino Purtroppo C'è un'altra decisione A sorpresa Per così dire Rinviata l'uscita Del DLC 2 Di Dying Light 2 Con frammarico Desideriamo annunciarmi Annunciarvi Non so più parlare La nostra decisione Di posticipare La pubblicazione Del DLC 2 Di Dying Light 2 Stay Human Al prossimo anno Il prossimo major update Di Dying Light 2 Renderà il gioco Ancora più spaventoso Di prima Ma almeno per adesso Sembrerebbe necessario Rimandare la nuova ondata I contenuti Adatta da destinarsi Fa un po' specie Perché si è parlato Di Dying Light 2 Proprio negli show Diciamo Degli ultimi giorni E quindi Sentire di un rinvio Dopo aver presentato Un po' di robetta Fa un po' strano Però è successo Esattamente questo Comunque Meglio rinviato E uscito bene Piuttosto che Pubblicare qualcosa Che non è ancora a posto Giusto? Giusto? Poi Tekken 8 Abbiamo effettivamente L'annuncio Della Close Network Test Ovvero una sorta di beta Su PS5, Xbox e PC Chiunque volesse provare A partecipare A questa versione di prova Deve visitare Il sito ufficiale E cliccare sul tasto Effettua e login Crea un account Può creare un nuovo profilo Bandai Namco Oppure accedere a uno Già esistente E confermare Poi tra le varie opzioni Quello che vuoi fare Con la beta Va precisato Che le registrazioni Verranno chiuse Il 28 giugno 2023 Alle ore 10 Italiane E la beta Quindi questa fase Della beta Si terrà esclusivamente Su PS5 A partire dal prossimo 21 luglio 2023 Alle ore 10 Il fuso orario italiano Fino alle 9 Del 24 luglio 2023 C'è il calendario completo Che è la fase 1 Solo su Playstation La fase 2 Che è PC PS5 E Series X ES 28 luglio Alle 10 I contenuti Della beta Saranno Un sacco di lottatori In realtà E anche diversi scenari Quindi testeranno Parecchia roba È una beta Piuttosto ricca Questa qui E fa Diciamo piacere Questa cosa Fa meno piacere Sapere che Sony Anche a sto giro Non sarà Alla Gamescom 2023 L'annuncio Non è arrivato Direttamente da Sony Ma è stato comunicato Al portale Games Market La redazione del sito tedesco Ha infatti contattato L'azienda giapponese Per avere informazioni Ma la risposta Lascia ben poco spazio A dubbi Non farà parte Gli espositori Della fiera E quindi impossibile Che le IP esclusive Possano essere provate Nel corso della Gamescom 2023 Già E anche lo scorso anno Sony non ha partecipato Di fatto Quindi Vabbè Poca sorpresa Purtroppo Però È una conferma Questo è E voglio chiudere Ragazzi Con un paio di Indiscrezioni Ok La prima È che Exclusive Forza Motorsport Dovrebbe essere rilasciato Il 10 di ottobre Ok Randall Thor Ha Nel podcast Ha detto che Ha confermato La release di ottobre Da quello che si sa Vicini Fonti vicine Expo Erano confermato Che Forza Motorsport Ha la data di rilascio Del 10 ottobre Quindi vedremo Se domani sarà Davvero così E infine Andy Robinson Di VGC Ci mette il carico Riguardo a Fable E scrive Su Twitter I reckon I reckon The Xbox Conference Tomorrow Is going to be Fable Fable Direi che Lascia poco Spazio a dubbi Questa cosa Quindi a questo punto Ragazzi Io vi dico che Dopo tutto quello Che abbiamo sentito Fable Ce lo dobbiamo Un tantinello Aspettare Ok E a proposito di eventi Vi confermo Che ovviamente Vedremo Live Domani L'evento Xbox Ci mancherebbe Ma oggi c'è Il Future Game Show E anche Wholesome Direct 2023 Ok E Wholesome Direct È alle 18 E il Future Game Show È Se non sbaglio Alle 21 Giusto Mi sono perso La data Va bene All'interno dell'articolo Però vabbè Questo me lo ricordo io Quindi ragazzi Andatemi a seguire Su Twitch Di nuovo Link in descrizione Se ancora Non l'avete fatto E per finire Ragazzi L'offerta del giorno Che è Evil West Qui su Instant Gaming Al 40% di sconto 29,99 Minaccia oscura Che incombe Sulla frontiera americana E un gioco Di Flying Wild Dog Molto peculiare Un West Molto Demoni E steampunk E Un titolo Che io ho soltanto Provato Però sembra Davvero divertente Ha un ottimo sconto Rispetto al Prezzo di lancio Che effettivamente Non è uscito Molto tempo fa Quindi è un buono sconto Come sempre ragazzi Vi ricordo che io Sono partner In un ufficiale Instant Gaming Perciò Se volete supportare Il canale E volete prendere Questo gioco Il link è qui sotto In descrizione Oppure potete prendere Anche quello che volete Ok Però se così fate È un buon modo Per supportare il canale Bene gente È tutto per le news di oggi Grazie mille per aver visto Questo episodio Noi ci vediamo Al prossimo Come sempre Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi anche Al secondo canale E seguitemi su Twitch Lasciate un bel like A questo video Se vi è piaciuto E qui sotto In descrizione Trovate come sempre Tutti i link A miei social E community Come Instagram E Telegram Tutti i link Per supportare il canale Tra cui i link Affiliati ad Amazon Instant Gaming E il link a Patreon Infine anche il link Alla playlist Con tutte le Crystal News Che come sapete Escono ogni giorno Alle 7 su YouTube E sul podcast A domani ragazzi